Un progetto europeo che diventa proposta didattica. Move the Movie, letteralmente muovi il cinema, è un'iniziativa proposta dal Cinema Solaris, vincitore del bando Europa Cinemas, ideato per far avvicinare i bambini alle sale cinematografiche. Un progetto riconosciuto anche dalla 78esima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. Per noi è stato non un successo, oltre perché è stato bellissimo, lavorare con i bambini delle elementari è una cosa stupenda perché sono iper ricettivi e molto attivi e ci hanno ascoltato tantissimo perché insieme a Adriano Razzi, che è il regista che poi ci seguirà per tutto questo percorso, abbiamo fatto delle piccole lezioni su cos'è il cinema. Il giovane pubblico ha avuto la possibilità di vedere tre film europei, Lizzie Red, Ernest Celestine e l'avventura delle sette note, Anna Frank e il diario segreto. Tutti i temi importanti proiettati sul grande schermo. I bambini hanno poi realizzato dei disegni inerenti a tutto ciò che hanno visto e vissuto e dal 9 al 24 maggio sarà possibile vedere la mostra all'interno del Cinema Solaris. Hanno recepito perché molti disegni raccontano di quello che c'è dietro al cinema e ce l'hanno regalati perché noi abbiamo chiesto di regalarci disegni sulle loro impressioni e abbiamo 362 disegni. 15 di questi insieme a una giuria che è formata appunto da Adriano Razzi, da me, da Francesco Moretti che oltre ad essere mio figlio è un grafico fumettista, da una classe di grafica della scuola d'arte che è la quarta F della Galeazzi e da Bimini che è comunque l'assessore alla cultura e la Vitri che ci ha sostenuto come la regione. 15 di questi nella serata finale del 24 alle 9 con tutti i loro presenti verranno animati piccole animazioni ma per farli sentire tutti i partecipi anche tutti gli altri verranno messi sullo schermo quindi magari sei in una pagina così li vedono proiettati sul grande schermo più le animazioni. E quanto dura la mostra? Dal 9 al 24 quindi avete tempo di venirla a vedere, saremo aperti tutti i giorni con gli orari del cinema quindi anche sabato e la domenica che sono dalle 4 la domenica e dalle 6 il sabato oppure su richiesta. Abbiamo fatto anche piccole lezioni su quello che c'è dietro ogni film e quanta gente ci lavora per portarli a capire che il mondo del cinema è immenso ed è pronto per ospitare anche tanti di loro se vogliono lavorarci.